Startup innovative, le piccole e medie imprese innovative possono essere il cuore pulsante per un nuovo sviluppo e un nuovo rilancio dell'economia della Sicilia e dell'intero Mezzogiorno d'Italia. In questo momento alle piccole e medie imprese della Sicilia serve nuova linfa, servono nuove idee, serve creatività, serve costruire nuovi prodotti per far competere sempre di più nei mercati internazionali, nei mercati sempre più globalizzati, le piccole e medie imprese dell'isola. Un'altra occasione per essere presenti insieme a Confindustria e in Vitalia qui in Sicilia per presentare un'altra delle misure che il Governo nazionale ha promosso per la nascita e il sostegno di nuove imprese. In particolar modo al sud, in particolar modo in Sicilia, Smart Start presentate oggi è un'occasione di rilancio della ricerca, dell'innovazione ed un tentativo di far rientrare i ricercatori siciliani che si trovano all'estero. Già sono state premiate anche l'anno scorso due aziende straordinarie siciliane che hanno creato delle aziende con dei prodotti assolutamente innovativi. Il dialogo tra Confindustria ed In Vitalia, già iniziato da diversi mesi, sta dando enormi risultati e io credo che la prossima occasione fatta questa di oggi ci darà la possibilità di promuovere e assistere tanti giovani che su questo versante vogliono costituire un'azienda e quindi avere i nostri aiuti, i nostri incentivi. Ma soprattutto la prossima occasione è molto attesa, soprattutto in Sicilia, e credo che quella volta veramente non si potrà scappare. È l'autoimprenditorialità a cui tutti quanti, tanti giovani, anche nel settore del turismo e dei beni culturali guardano con attenzione. Questa di oggi, per quanto riguarda le start-up innovativa, dobbiamo dire che è un'ottima iniziativa per i giovani e noi come Sportello Artigian Cassa ci siamo attivati per venire incontro a quelle che sono le agevolazioni ed aggiungersi a quelle che sono le agevolazioni già concesse dal Ministero. Infatti noi sappiamo che le agevolazioni del Ministero sono pari all'80% dell'investimento affettuato, di cui per la Sicilia il 60% è un finanziamento a tasso zero, il 20% è un contributo a fondo perduto. Noi come Artigian Cassa ci aggiungiamo concedendo alle imprese il 20% che è fuori da qualsiasi agevolazione. Quindi dando quest'ulteriore 20% rimborsabile in 5 anni, di cui un periodo di preammortamento permettiamo alle imprese di avere finanziato il 100% dell'investimento tra Indimise ed Artigian Cassa. Credo che sia un incontro particolarmente importante anche perché le risorse programmate, che sono quasi 200 milioni di euro per nuove imprese e tra l'altro permette di attingere fino al 75% a fondo perduto, credo che sia un'opportunità che i giovani siciliani non possono farsi sfuggire. Credo che questo sia il momento del bivio, dove le energie sane, le intelligenze siciliane del meridione in modo particolare devono alzare la testa e devono avviarsi in questo cammino importante per quello che è la crescita del meridione. Aggiungo a questo, e lo voglio ricordare a chi ci sta ascoltando oggi a casa, che fortunatamente la nuova programmazione dei fondi comunitari, dove tra l'altro c'è un segmento particolarmente forte sotto aspetto economico, Horizon 2020, che monta quasi a 80 miliardi di euro da programmare da qui al 2020, è un'altra opportunità straordinaria. E questa volta fortunatamente il 70% delle risorse passeranno direttamente tra il territorio e la comunità europea, senza passare attraverso le pastoie burocratiche, i lacci e laccioli di una burocrazia che ha ingessato e ha bloccato la spesa in Sicilia nell'ultimo quinquennio. Quindi credo che sia un aspetto importante e quindi credo che i giovani hanno un'opportunità straordinaria storica per fare in modo di mettere le loro eccellenze in campo qui nel meridione e non andare all'estero per poter esprimere le loro grandi e forti capacità.